state ascoltando Roma ore dieci le dodici quarantatré minuti Massimo Persotti è con noi parte il salvalingua Massimo buongiorno buongiorno Luca Massantonio buongiorno eh Francesco eh la la domanda iniziale è più che me opportuna perché Luca Massantonio giornalista del Corriere della sera da poco pubblicato per Marsilio pazzesco dizionario ragionato dell'italiano esagerato ehm Luca insomma siamo sempre più sommersi sullo scrivi nel libro da parole senza più senso fuori contesto uscite di senno come appunto pazzesco un termine che dovrebbe indicare qualcosa di pazzo di folle di straordinario ma è ormai così straordinariamente diffuso e normalmente abusato che ormai vuol dire un po' tutto il suo contrario cioè niente è un po' la condizione della nostra lingua Luca eh credo temo diciamo di sì è come una lingua che ci mordiamo ma non ci fa male invece ci fa piacere mordercela nel senso che io sono partito da pazzesco che è una parola che sento ogni giorno alle riunioni di lavoro gli amici pubblicitari gli avvocati e chiunque è uscito andato a vedere un film come il film è pazzesco oppure hai visto l'incidente pazzesco che c'era sull'altra insomma qualsiasi cosa è pazzesca quindi è tutto il suo contrario e per esorcizzare ho iniziato a raccogliere parole uscite appunto come dicevi di senno e ce ne sono una marea io ne ho raccolte 69 che è un numero diciamo così che vuole subito rappresentare l'aspetto un po' ludico eh perché io non so se ci salveremo e salveremo la lingua italiana ma dobbiamo forse salvare la nostra curiosità e bisogna soprattutto divertirci nel senso che tanto noi siamo parlati dal nostro italiano più di quanto noi crediamo di parlarlo ma non dobbiamo forse venire abusati da lui noi usiamo delle parole faccio qualche esempio adoro è un verbo che io detesto perché è diventato intransitivo eh non non importa più che cosa adoriamo l'importante è dire adoro come se ci fosse un like diciamo in astratto anche offline perché il sesso dell'italiano che oggi ho così mi ronda continuamente pazzesco è l'entusiasmo l'enfasi bisogna crederci molto e quindi usiamo appunto adoro ehm pazzesco l'ol sì sì già ci sono Francesco tra l'altro parole che fanno un po' parte dei nostri tormentoni come assolutamente da solo o il piuttosto che eh Luca vero? Sì sono sono dei sono dei mostrini sono degli incubi io piuttosto che ho trovato un escambotage con l'aiuto di un amico che fa grafico vignettista e per non usare questa parola terribile questa locuzione che essenzialmente trasforma la vita in una lista della spesa perché tu dici che facciamo questa sera ma possiamo andare al cinema piuttosto che al teatro piuttosto che a un concerto e tu non capisci realmente dove ci andrà ecco pensate la celebre frase di Amleto l'atto eh terzo di Shakespeare che in cui Amleto si chiede se essere piuttosto che non essere appunto sia il vero problema ecco io da quando facciamo rivoltare nella tomba ogni tanto Shakespeare con questo escambotage non lo uso più in maniera malata diciamo in maniera sbagliata sull'assolutamente ci casco perché poi alla fine il libro è stato un grande alibi per usare queste parole ogni tanto mi viene da dire assolutamente poi mi chiedo ma assolutamente che cosa boh si o no ce lo perdiamo per strada perché l'importante è il superlativo carinissimo carinissimo non si può dire bello un tempo c'era carino che dava fastidio però ma carinissimo ma se una cosa è carinissima non puoi farmi capire se è bello oppure no quindi il superlativo di un quasi bello è terribile nel in questo elenco di parole ci sono tanti esempi che provengono un po dal mondo digitale tu parli di un digitaliano un italiano digitale che potrebbe anche servire a favorire un certo ricambio linguistico però se nel libro tu dici qualcos'altro scrivi e spieghi qualcos'altro cioè più che un ricambio c'è stata una sorta di piccola grande invasione che non ha proprio arricchito la nostra lingua o sbaglio beh più che altro il problema è che a partire da me il libro per me è stato molto utile perché ho scoperto il senso di alcune parole che tutti utilizzano banalmente start up alla fine nella percezione comune è una parola che tutti i politici ormai insomma ci ripetono come un mantra se uno apre una pizzeria dice ma una start up nel settore del food insomma beh è una pizzeria anche perché noi ci auguriamo che insomma duri la tua pizzeria quindi la start up in genere ha un ciclo di vita abbastanza breve di fatto cinque anni poi deve diventare qualcos'altro non si può essere degli start up perché poi come dice un truppe cioè essenzialmente si diventa il popolo delle start up ieri c'era il popolo delle partite iva ecco start up oppure diciamo inerisce ad una collocazione finanziaria dico caspita vuoi collocare in borsa la tua pizzeria oppure il baldacchino che vende le salsicce a San Siro mitico come si chiamava? food truck cioè vale saramelle non lo so insomma quindi però magari vegan oggi ho sentito strumenti di cottura cos'è padelle aspetta un ma c'è anche l'altra cosa che adesso uguale io sai mi occupo del mondo gastronomico no? lì proprio lì c'è lì c'è proprio il delirio no? adesso c'è lo street food lo street food che so i supplir il panino cioè la risco oggi perché ti cade per terra lo raccoglie il problema è questo non avendo niente da dire chi non ha proprio veramente niente da dire cambia il modo di dire o in italiano o ormai più spesso in inglese e così pensa che è figo e che è nuovo perché il problema è che il problema è che il problema è che i boccaloni non fa parte del no non fa parte è una metafora ittica avanti max beh visto che giustamente Emilio ricordava l'invasione o comunque la presunta tale di termini inglesi gli anglicismi è un fenomeno molto discusso ma Luca questo è un processo naturale di contaminazione anche dovuto al fatto che appunto in molti campi dal digitale dell'economia il vocabolario imperante è appunto anglosassone oppure è indice di un impoverimento complessivo di una eccessiva genuflessione della nostra lingua o cos'altro secondo te? No perché io poi sono giornalista e faccio parte degli untori quindi anche per la nostra esatto e però un consigliato italianistica Pascoli sono dei padri della pratica linguistica per esempio in una un poemetto che si chiamava Italy storpiava le parole ice cream 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 che gli immigrati italiani che tornavano dall'estero utilizzavano insomma questo italiano gran melo il punto è se è una scelta libera appunto è se ci divertiamo e se ci il punto poi seriamente è il rapporto col potere la cosa terribile perché poi io mi sono divertito a scriverlo c'è anche un cruciverbo alla fine spero insomma che i lettori si divertano perché è un gioco ma è un gioco per liberarsi dal potere perché se noi consegniamo le nostre menti il nostro pensiero ai grandi sinonimi parlando una neolingua che è più simile a quella di Orwell che non all'inglese che si studia ed è un utile strumento conoscitivo facciamo un esempio adesso stai sereno che è molto semplice è la neolingua di Orwell Orwell dice questo romanzo del 1984 dove c'è il grande fratello non esiste il cattivo perché è una brutta parola esiste solo il buono il contrario di buono qual è sbuono quindi con la essere disingiuntiva quindi noi non possiamo più pensare il cattivo e quindi tutto è buono ecco l'idea che stai sereno da diciamo invito umorale è diventato una minaccia perché anche in Gomorra che non c'entra nulla con Renzi ma quello prima di ammazzarli i sicari dicono stai senza pensiero diciamo è la cosa che fa inquietare diciamo il destinatario ecco se noi addirittura ormai subiamo un linguaggio in cui il senso di una parola viene cambiato dal politico attraverso i mezzi di comunicazione ecco che forse se noi lo recitiamo passivamente consegniamo le chiavi della nostra testa al potere e questo ci rende veramente sciampi boccaloni ecco come diciamo un esercito di boccaloneria boccaloneria entra di diritto la boccaloneria è una buona dai max è una buona sintesi è per allora ti ricordavamo 69 voci da addicted a zombie stai sereno sapevatelo la gente con due g tanto per mantenere un po c'è qual c'è una parola con cui ci lasciamo oggi che anche adatta alla conversazione che abbiamo fatto fino adesso semplicemente che suggerisci e per incuriosire lettori lettrici ovvero ascoltatori e ascoltatrici del radio che potrebbero uscire oggi pomeriggio e andare a comprare pazzesco diciamo ne sparo due anzi tre toy boy milf e bimbo minchia sono parole con delle storie dietro molto interessanti la prima milf in realtà non è nel laureato neanche in american fine ma nel giovane olden coprite voi quale nel libro si svela e però in realtà una parola seria mi piace chiudere anche una parola seria è che meritocrazia appunto era il titolo di un saggio di uno scrittore inglese di metà del novecento che significava l'opposto di quello che crediamo oggi era un incubo un mondo in cui le persone venivano premiate solo in base al quoziente intellettivo e non a quanto erano cresciute in difficoltà economica insomma non tenevano presente la giustizia sociale la meritocrazia che tutti oggi invocano l'ideatore di questa parola l'aveva concepita come un incubo e quindi diciamo i nostri politici vogliono realizzare gli incubi di questo scrittore io penso che in italia basterebbe contrastare la meritofobia cioè è vero che in italia insomma non si entra mai del merito però ci sono parole sedie come meritocrazia parole diversamente sedie come milf e poi voi per un po' di parcondicio che era una parola latina senza senso della seconda repubblica infatti l'ho citata solo per un secondo di silenzio resti insomma tanta roba tanto per citarne un'altra dentro questo pazzesco sapevatelo oppure l'oro sapevatelo sapevatelo dizionario ragionario dell'italiano esagerato luca massantonio per marsilio grazie grazie davvero per essere stato con ciao luca